La campagna dei ristoratori ribelli alle chiusure anti-Covid non ha avuto grande successo in Francia. Il primo febbraio in pochi hanno violato la legge, riaprendo le porte ai clienti. Philippe Vieira aveva cucinato per una quarantina di persone che attendeva nel suo ristorante a Villurban, vicino a Lione, ma alla fine ha cambiato idea e il pasto preparato è andato a finire nelle pance dei giornalisti sul posto per intervistarlo. Troppa la paura di perdere gli aiuti di Stato che il ministro dell'economia Bruno Le Maire aveva promesso di tagliare per un mese a chi non avesse rispettato le regole. I ristoranti non servono al tavolo da tre mesi e possono fare solo vendita da sporto e in discussione una loro riapertura dopo metà febbraio. Vieira spiega che era pronto ad accogliere di nuovo i clienti, ma siccome il ministro è stato molto chiaro sulle sanzioni ha desistito. Ho assoluto bisogno del fondo di solidarietà, non voglio creare una situazione di conflitto. Se avessi aperto la polizia sarebbe arrivata, avrebbe multato i clienti. L'obiettivo era di sensibilizzare sul tema e penso che io e i miei colleghi ci siamo riusciti. La ribellione ha coinvolto circa 320 ristoratori nel paese, che hanno incassato la solidarietà di numerose persone, come questa donna che dice mancano i vaccini, ma il governo ci fa la morale sul fatto che non dobbiamo aprire, non dobbiamo fare questo, non dobbiamo fare quello, non penso sia giusto. Caso vuole che il ristorante si trovi proprio davanti ad un commissariato di polizia, dice la nostra inviata, quindi il gestore ha potuto farsi subito ascoltare da un rappresentante dello Stato. L'atteggiamento delle forze dell'ordine nel paese è stato in generale conciliante con i ristoratori che protestavano, sono state evitate multe durante la mobilitazione. L'iniziativa non ha ricevuto il sostegno delle organizzazioni che rappresentano la categoria.